Ciao ragazzi, benvenuti a tutti sul canale, sono Stefano, 47 anni e fin da bambino l'Inter tatuata nel cuore. Mi occupo nella quotidianità di contabilità e economia aziendale, quindi cercherò di portare sul canale dei contenuti dove andrò a spiegare in maniera il più semplice possibile tutte quelle parolone che si sentono dire giornalmente dai quotidiani anche in modo sconclusionato. Il mio progetto all'interno della fratellanza nero-azzurra è di rendere un attimino più di lettura facile per tutti queste cose che mettono confusione e che non ci fanno star tranquilli e che chiaramente poi i giornali ci marciano sopra per attaccare la nostra Inter. Non vi dico niente di più perché questo è un mini video di presentazione, seguirà chiaramente il video del mio cofondatore dove vi spiegherà quello che saranno gli aspetti che lui porterà sul canale, i contenuti che porterà sul canale e poi se siete curiosi di queste cose non vi vogliamo dire niente di più perché la Crustave deve rimanere per tornare a vedere i contenuti che vi proporremo. Buona giornata a tutti e Forza Inter sempre!